Emergenza coronavirus sale il numero dei positivi in Basilicata nel bollettino di oggi 13 casi conteggiati preoccupa il focolaio di Melfi nella città federiciana chiuso l'istituto righetti per due casi covid tutti i negativi tamponi effettuati sui dipendenti di acquedotto lucano emissioni ambientali inaugurato oggi dall'enia vigiano un centro di geomonitoraggio analizzerà tutti i dati provenienti dalla rete della val d'agri l'aggressione di una tredicenne in pieno centro storico a potenza già individuati dalla polizia alcuni componenti della baby gang il ballottaggio a materia del 4 e 5 ottobre prossimi il movimento 5 stelle chiude le porte ad accordi di spartizione ma le dimissioni del segretario del pd muscaridola aprono la strada ad un possibile confronto calcio a 5 dopo lo stop per l'emergenza sanitaria ritorna la coppa italia 5 le lucane in lizza come ogni venerdì al termine del tg le previsioni meteo di ghettano brindisi l'esperto nei nostri studi buon pomeriggio ben ritrovati con l'informazione sulla nuova tv c'è sempre l'emergenza coronavirus in primo piano nel nostro tg e lo sentivate dai titoli sono 13 i casi certificati oggi dalla task force regionale preoccupa il focolaio di melfi qui all'istituto righetti lezioni sospese a causa di due contagi rilevati tra il personale amministrativo la didattica riprenderà lunedì ma a distanza facciamo il punto con michelangelo russo anche oggi contagi in doppia cifra su ben 850 test processati 13 casi tutti attinenti a cluster attivi nell'area nord della basilicata sette quelli riscontrati a melfi tutti riconducibili al caso della ragazza tornata da roma tre invece nel comune di pescopagano qui associati invece alla catena dei contatti della signora ricoverata gli infettivi del san carlo e ci sono anche due lavoratrici della segreteria dell'istituto righetti l'emergenza ha già costretto il sindaco carnevale a emettere ordinanza di chiusura delle scuole compresa la sede distaccata dell'istituto tecnico situazione leggermente diversa nella sede centrale di melfi dove soltanto le prime ieri hanno fatto lezione in presenza ma dopo le due positività riscontrate le attività didattiche indirizzate ai più giovani sono state sospese e riprenderanno direttamente lunedì ma a distanza non cambierà nulla invece per gli studenti più grandi che già fruiscono della didattica digitale ci sono poi le tre positività confermate in laboratorio al san carlo su due dipendenti fca è un residente a potenza conoscente del cittadino ruotese che si è recato a un matrimonio a picerno e che è risultato positivo tutti i negativi invece i tamponi effettuati ai dipendenti della sede centrale di acquedotto lucano mentre oggi sono stati esaminati i cittadini di anzi con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 133 e di questi 12 sono ricoverati più altri due stranieri sempre in isolamento in basilicata resta in terapia intensiva il cittadino di marconia di pisticci da monitorare infine anche un'altra cinquantina di persone tra residenti fuori regione migranti e stranieri 400 i guariti dall'inizio della pandemia quattro quelli di oggi due a potenza e due a laurea un centro di monitoraggio ambientale ad alta tecnologia per l'analisi di tutti i dati provenienti dalla rete di monitoraggio della val d'agri è stato inaugurato questa mattina a biggiano il centro di controllo ambientale gea sigla che sta per geomonitoraggio emissioni ambientali una struttura in cui confluiscono i dati provenienti dai punti di rilevamento della rete di monitoraggio ambientale del centro olio e delle aree del distretto meridionale di eni gea raccoglierà ed elaborerà giornalmente i parametri ambientali acquisiti in continuo dalle reti di monitoraggio costituite da 14 punti emissivi del cova 8 nasi elettronici 15 fonometri dei rilievi in campo eseguiti dai tecnici con strumentazione portatile e inoltre da quattro nuove centraline della qualità dell'aria installate da eni nell'intorno del cova che vanno ad aggiungersi a quella già esistente e alle cinque gestite da arpab la sala controllo sarà il luogo dove verranno convogliate anche i risultati delle analisi di acque e suoli derivanti da circa 250 piezometri e circa mille sondaggi geognostici totali in gea saranno impegnati 24 tecnici specializzati addetti al controllo e al monitoraggio h24 e per 365 giorni all'anno nel corso dell'evento di inaugurazione col diretti basilicata ha presentato il progetto di monitoraggio della qualità dei prodotti agroalimentari che ha come obiettivo la conduzione di analisi sulla qualità dell'area e biologiche sulla carne e sul latte di bovini che pascolano nelle aree interessate dalle attività di eni in val d'agri e questa mattina è andata per noi a vigiano la collega mariolina notar giacomo che sull'inaugurazione del gea ha sentito per noi il responsabile eni valterrizzi ascoltiamo l'intervista oggi inauguriamo un centro di monitoraggio ambientale che raccoglie tutti i dati storici e raccoglie i dati in tempo reale della rete di monitoraggio ambientale sulle matrici acqua aria terra che noi abbiamo su 660 chilometri quadrati è un centro che raccoglierà tutti questi dati e li analizzerà in tempo reale per poter verificare i trend d'andamento delle diverse matrici ambientali in un'ottica anche predittiva per poter intervenire qualora ce ne dovesse essere la necessità ce ne potrebbe essere la necessità lei cosa crede? noi non stiamo lavorando per vedere se ci sarà o non ci sarà necessità noi abbiamo tutta una serie di dati estremamente positivi estremamente rassicuranti raccolti in tanti anni per cui abbiamo un trend assolutamente positivo che ci rassicura però continueremo e amplieremo comunque per la tranquillità dei lucani questa rete di monitoraggio non siamo un po' fuori tempo massimo e sono circa 20 anni che Eni è presente in questo territorio non si poteva fare prima? oh ma noi l'abbiamo fatto prima lei ha ragione sono 20 anni che noi raccogliamo dati oggi grazie alla digitalizzazione e peraltro questo centro ha una digitalizzazione spinta ci permette di abbreviare i tempi di analisi i tempi di verifica la sovrapposizione dei dati per avere il trend ambientale passiamo alla cronaca parliamo dell'aggressione di una tredicenne in pieno centro storico a potenza già individuati dalla polizia alcuni componenti della baby gang mentre la vittima sarà ascoltata dal magistrato del tribunale per i minori tutti i dettagli da Fabrizio Di Vito sarà ascoltata dal magistrato del tribunale dei minori incaricato di coordinare le indagini la tredicenne è rimasta vittima dell'aggressione subita da parte di un gruppo di adolescenti in pieno centro storico a potenza gli accertamenti affidati alla squadra mobile del capoluogo avrebbero già consentito di identificare alcuni dei ragazzi che avrebbero preso parte all'agguato organizzato dall'ex fidanzatino della minorenne si tratta di amici, tutti minorenni alcuni dei quali vivono in un comune alle porte della città ingaggiati dal giovane che dopo la separazione ha voluto vendicarsi a far parte del gruppo, a quanto pare piuttosto numeroso vi erano anche alcune ragazzine sarebbero state proprio loro ad aggredire la tredicenne dopo averla pedinata dal suo arrivo attraverso gli ascensori in via Pretoria costringendola poi ad imboccare un vicolo dove l'avrebbero circondata per poi accanirsi contro di lei afferrata più volte alla gola la vittima stava per essere strangolata in sua compagnia c'era un'amica che ha cercato di difenderla e che dopo aver temuto di essere picchiata anche lei ha lanciato l'allarme per i traumi riportati l'adolescente è stata costretta alle cure dei sanitari del pronto soccorso dove vi è giunta accompagnata dai genitori che subito dopo si sono recati in questura per denunciare l'accaduto fornendo tutte le indicazioni necessarie a far luce sulla vicenda la ragazzina avrebbe riconosciuto buona parte dei suoi aggressori quest'ultimi ritenuti responsabili dell'accanimento anche nei confronti dell'amica elementi che sarà necessario fornire al magistrato incaricato delle indagini di fronte al quale si ritroveranno entrambe per ricostruire nel dettaglio quello che per loro è stato un vero e proprio incubo il ballottaggio a Matera del 4 e 5 ottobre prossimi il Movimento 5 Stelle chiude le porte ad accordi di spartizione ma le dimissioni del segretario Cosimo Muscaridola della segreteria cittadina del PD aprono la strada ad un possibile confronto ce ne parla Mara Risola apparentamento o non apparentamento noi non diremo alla gente di andare al mare come è stato fatto per l'amministrativa a potenza ma faremo il possibile perché il centrodestra a Matera non vinca le elezioni è questa l'eredità che Cosimo Muscaridola lascia al Partito Democratico dimettendosi dalla carica di segretario cittadino del PD di Matera ma in attesa del congresso e di una nuova guida per i dem materani l'imperativo che il segretario lascia al suo gruppo dirigente è quello di mettercela tutta e sostenere Bernardi al ballottaggio perché da Roma a Zingaretti come pure i 5 Stelle su Matera hanno puntato i riflettori e con il suo passo indietro sarebbe più facile per i pentastellati immaginare un percorso aperto ad un PD rinnovato no ad apparentamenti con i dem il problema ha sottolineato su Facebook la sottosegretaria materana Mirella Liuzzi ma guardiamo positivamente alla riorganizzazione del PD di Matera porti aperte quindi al dialogo tra il centrosinistra e la coalizione che ha sostenuto Domenico Bernardi alle amministrative in vista del ballottaggio siamo aperti al dialogo ha infatti affermato Bernardi e al confronto costruttivo con le altre forze politiche per il bene della città ma la strada che abbiamo scelto è quella di non fare alcun apparentamento una scelta di coerenza politica per rispettare prima di tutto il volere di chi lo ha votato la vertenza Donuva verso una risoluzione firmato ieri l'accordo tra Regione Basilicata, ASP, Universo Salute e organizzazioni sindacali con la firma del verbale l'azienda si impegna a ricollocare gli operatori attualmente in cassa integrazione e togliere la FIS a partire dal 1 ottobre inoltre Regione Basilicata e ASP si sono impegnate a rivalutare la classificazione ed attribuire alla struttura del Donuva entro il 30 settembre prossimo ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità Fai ripartire la tua azienda con La Nuova Quotidiani TV e Web Richiedi il tuo bonus pubblicità 2020 agevolazioni sugli investimenti pubblicitari e rimborso al 50% Per informazioni contattaci al numero 0971 47 65 52 o tramite mail all'indirizzo info-lanuova.net E dopo la pubblicità riprendiamo il nostro TG e parliamo del ritorno a scuola ieri prima campanella ma restano alcuni disagi per i trasporti dalle province verso i capoluoghi sentiamo Alessandro Panuccio Un tourbillon di emozioni e restrizioni un mix di sensazioni rimasti in un cassetto per quasi sette mesi ma anche un freno a mano tirato specie in alcune fasi della giornata scolastica distanziamento e qualche assembramento mascherine e raccomandazioni ripetute ancora più spesso da genitori e nonni hanno caratterizzato l'avvio dell'anno scolastico in Basilicata in un clima un po' incerto ma fiducioso ma la prima settimana fungerà anche un po' da test per verificare e correggere le criticità su tutte quelle legate ai trasporti non sono mancate segnalazioni di disagi specie per chi raggiunge i capoluoghi dalla provincia a ruoti alcuni residenti delle contrade Serra di Pepe e Ginocchione si sono rivolte alla sindaca scalise vista l'impossibilità per alcuni studenti di prendere l'autobus per mancanza di posti per raggiungere gli istituti scolastici di potenza anomalia subito segnalata al presidente della provincia Guarino meglio per quanto riguarda i trasporti urbani nel capoluogo mi sembra che i trasporti urbani hanno fatto quello che avevano preannunciato cioè avevano messo a disposizione delle corse diverse corse urbane che portavano i ragazzi qui poi non tutti si dicono pronti per partire a breve col servizio mensa più lontana la possibilità di avviare le lezioni di educazione fisica anche perché spesso le palestre dei comprensivi risultano adattate ad aule complicato anche cimentarsi in attività laboratoriali pratiche come l'educazione musicale causa covid, lavori di adeguamento e messi in sicurezza non tutti i comuni hanno dato il via libera al ritorno in classe ad esempio a Cassia e Saraceno serviranno ancora dieci giorni ma considerando che molti edifici hanno ospitato i seggi in generale la situazione affare buona e a causa del brusco aumento di contagi che ha interessato la zona del Vulture e Melfese l'Unione degli Studenti della Basilicata oggi non è scesa in piazza per manifestare contro la gestione del ritorno fra i banchi in questa fase di pandemia le motivazioni dello sciopero indetto a livello nazionale dall'Unione degli Studenti erano state illustrate in una conferenza stampa ascoltiamole nell'intervista di Donato Carbonella le motivazioni sono diverse a partire dall'edilizia scolastica fino ad arrivare ai trasporti in Italia ancora l'anagrefa di tutti gli istituti scolastici non è completa e alzare la capienza di ogni mezzo scolastico all'80% non è in alcun modo risolutivo del problema anzi i contagi sono sicuramente più rischiosi all'interno dei mezzi pubblici ed inoltre le direttive che ci hanno dato per il ritorno a scuola non sono abbastanza precise siamo allo sbando e totalmente confusi da quelle che sono le direttive che ci arrivano sia a livello nazionale che a livello regionale ci hai detto di essere favorevole alla ripresa di una didattica in presenza ma quali sono gli scogli che si incontrano per questa opzione? la didattica in presenza è sicuramente migliore di quella a distanza ma i problemi qui in Basilicata sono moltissimi qui in Basilicata come in altre regioni a partire dalla mancanza di strutture infatti gli enti comunali pur provando a metterci a disposizione strutture comunali innanzitutto queste non sono in grado di ospitare un numero sufficiente di studenti inoltre molti non hanno a disposizione i sistemi di riscaldamento per l'inverno e non sono a norma come dovrebbero essere gli istituti scolastici siamo al calcio in serie C potenza molto attivo sul mercato mentre il difensore Luigi Silvestri è ormai al passo da Dio e Rosso Blu provano a rinforzare la rosa con un attaccante un portiere per il reparto avanzato sembra quasi fatta per Pietro Cianci in uscita dal Teramo mentre in porta è vicinissimo l'arrivo del numero uno rumeno Marius Adabonis in prestito dalla Lazio domenica ha previsto l'esordio in campionato del Potenza in casa col Catanzaro che ha chiesto l'anticipo alle ore 15 intanto sembra scongiurato il rischio dello sciopero indetto dall'asso calciatori c'è l'intesa tra Lega Pro e AIC che resta in stato di agitazione per il passaggio dalla lista 22 dei giocatori over a quella 24 che però verrà ratificata e ufficializzata la prossima settimana passiamo al calcio a 5 dopo lo stop per l'emergenza sanitaria ritorna la Coppa Italia a 5 le squadre lucane in lizza sentiamo Luigi Santopietro torna la Coppa Italia di Futsal manifestazione che l'anno scorso fu bloccata dall'esplosione dell'emergenza sanitaria 5 le squadre lucane interessate nelle varie categorie in Serie A si qualificano alla Final 8 di Coppa Italia le prime 8 classificate al termine del girone di andata la Kermess della Coccarda si giocherà tra il 25 e il 28 marzo la CMB Matera vuole esserci e tenterà il tutto per tutto per chiudere tra le migliori 8 al termine dell'andata del campionato in A2 dove giocano Bernalda e Orsa Vigiano cambia la formula della Coppa Italia che passa dalla Final 4 alla Final 8 si qualificano alla finale 8 la prima e la seconda classificata di ciascun gruppo al termine del girone di andata la Final 8 si disputerà dal 16 al 18 aprile 2021 anche per la Serie B dove giocano Potenza e Senise la formula sarà quella della Final 8 si qualificheranno le prime classificate degli 8 raggruppamenti alla fine del girone di andata si gioca fra il 23 e il 25 aprile 2021 per le due Lucane, entrambe neopromosse sarà difficilissimo arrivarci ma sognare non costa nulla ed è tutto per questa edizione la prossima alle 19 vi lascio alle previsioni del tempo a cura del nostro esperto Gaetano Brindisi e vi auguro un buon proseguimento di giornata Salve a tutti ben ritrovati sulla nuova tv per l'appuntamento meteo l'estate è terminata sta terminando in queste ore proprio le temperature stanno crollando abbiamo avuto fino a ieri fino a stamattina ancora sulle zone orientali della Basilicata valori superiori ai 30 gradi ma una profonda circolazione depressionaria che ha portato maltempo sul nord Italia sul centro nella giornata di ieri e oggi anche sulle zone tirreniche e meridionali sta determinando un cambiamento radicale delle condizioni atmosferiche quindi ci aspetto un fine settimana all'insegna soprattutto del vento delle temperature in diminuzione e anche di piogge forti sono proprio le piogge a far parlare in queste ore dopo tante settimane di siccità alcune zone non tutte perché la Basilicata è abbastanza ampia come dal punto di vista anche morfologico diciamo al punto di vista delle alcune località della Basilicata abbiamo riscontrato valori precipitativi davvero eccezionali mi sono arrivato proprio qualche minuto fa delle due foto da Muro Lucano testimoniano questa forte pioggia ecco se credo la regia ecco vedete non sono cascate sono proprio sembrano quasi cascate dicevo la pioggia che è caduta in queste ultime ore dal centro della protezione civile registriamo oltre 50 mm nella zona tra Muro Lucano San Feile Pesco Pagano quindi quella zona è stata molto colpita e sta piovendo tuttora molto forte mentre in altre zone come d'altronde anche su Potenza non è ancora arrivata nessuna precipitazione e soprattutto le aree del Materano risentono della protezione dell'Appenino quindi quando piove non è che piove dappertutto però abbiamo visto che quando si prende la cellula forte la cellula buona cadono anche tanti minimi di pioggia in pochissimo tempo vediamo l'immagine del satellite che appunto ci testimoniano questo cambiamento sull'Europa centro-medionale fino a pochi giorni fa avevamo un'alta pressione che praticamente proteggeva tutta l'Europa centro-medionale adesso notiamo una profonda depressione doppia depressione una tra la Germania e la perizia la Scandinavia l'altra proprio sull'Italia centro-settentrionale e insieme a queste due depressioni ruota aria molto fredda che proviene dalla Corellandia quelle nubi a forma diciamo a forma di ciottoli sono proprio nube che delimitano proprio l'ingresso di aria fredda che colpisce tutte le zone occidentali e europee invece la parte orientale quindi la Russia e i paesi dell'est sono sicuramente sotto correnti molto miti che ancora in queste ore dicevo stanno interessando la Puglia la Basilicata Orientale e la Calabria ma tra stanotte e domani mattina anche queste zone saranno colpite insomma colpite saranno interessate da una forte diminuzione delle temperature vediamo lo zoom sull'Italia e notiamo proprio le macchie più bianche quelle luminose testimoniano la presenza di nubi fredde quindi nubi che si sviluppano a livello verticale quindi dai 2.000 fino agli 8.000-9.000 metri di altezza e proprio lì tra Campania Meridionale Basilicata Meridionale sono le precipitazioni maggiori oltre alla Sardegna e in una di queste cellule si è staccata una di queste cellule andando a colpire la Basilicata Nord-Occidentale abbiamo visto le foto di precipitazioni davvero violente con questa premessa andiamo a vedere le previsioni per la seconda parte della giornata questa circolazione depressionale farà sì che saranno le zone sud-occidentali le zone tirreniche quelle diciamo ai confini tra la provincia di Salerno e Avellino a essere interessate da qualche precipitazione qualche temporale interesserà ancora inserata la parte tirrenica poi invece le piogge dovrebbero cessare sulla parte centro-orientale nel corso della notte tant'è che domani potremmo avere qualche scarita vedete la parte orientale rimane comunque all'asciutto non dovrebbe esserci piogge o al massimo qualche debole pioggia per quanto riguarda la giornata di domani dicevo una giornata all'insegna dell'instabilità soprattutto sulle zone occidentali dove ci saranno ancora una volta temporali piuttosto diffusi sul lago Negrese quindi sulla costa di Maratea lì sono previste precipitazioni davvero significative piogge sparse soprattutto in mattinata sul resto del potentino poi dovrebbe migliorare temporaneamente il tempo anche su queste zone invece rimangono protette dall'appendino le zone orientali dove difficilmente le piogge potranno arrivare se non in forma molto occasionale le temperature per domani sono in netto calo dicevo sia le minime che le massime finisce questa lunga data di caldo 9 gradi a potenza la minima 14 a Matera massime che rientrano nelle medie anzi sono un po' al di sotto delle medie dopo aver toccato oltre i 30 gradi nella città di Matera dei giorni scorsi vedete 20 gradi la massima su Matera e 15 gradi su potenza valori al di sotto delle medie di qualche grado i mari mosso lo ionio riparato appunto dall'appendino mentre il tirreno che risente di questa circolazione depressionaria sarà praticamente agitato attenzione non è proprio sconsigliatissimo andare in mare perché le onde potrebbero superare anche i 4 metri sulla costa di Maratea venti moderati con rinforzi sulle zone esposte a ovest la provenienza vedete le frecce sono praticamente da ovest sud ovest per quanto riguarda la giornata di domenica passerà questo primo fronte come dicevo ma poi nel corso della giornata dovrebbe arrivare una seconda coda di perturbazione questa volta più intensa che porterebbe piogge insomma dovrebbe portare piogge più frequenti sulla nostra regione vediamo il quadro grafico in mattinata qualche pioggia prevista sul potentino centroseternale piogge più diffuse nella parte meridionale del potentino ancora una volta rimangono lasciutte le zone orientali del materano sempre protette dall'appendino con i vendi da sud ovest poi nella seconda parte della giornata tra il pomeriggio e la sera forte peggioramento a partire da ovest questa volta il peggioramento dovrebbe prendere tutta la regione quindi sono attese precipitazioni forti parliamo tra i 20 e i 30 mm sulla regione man mano che ci spostiamo poi verso verso est arriveranno nel corso della serata nella notte anche sul materano quindi piogge questa volta dovrebbero essere più diffuse le temperature per domenica più o meno stazionarie o in lievamento perché comunque in mattinata avremo delle schiarite vediamo i valori previsti per domenica 16 a potenza 21 a grammatera per quanto riguarda la massima invece i valori più o meno stazionari o in lieve calo a matera per via del cielo più sereno durante la notte vedete 9 a potenza 12 a matera 20 forti sul potentino rinforzo ulteriore in attesa della seconda perturbazione che dovrebbe arrivare in serata e mari ancora una volta mosso il tirreno mosso lo ionio molto mosso agitato il tirreno alle prese con questi venti da sud ovest praticamente che vanno a imbranchersi proprio contro la costa di Maratea per quanto riguarda la giornata di lunedì inizia a migliorare dal punto di vista dell'Italia centrosettiennionale mentre ancora al sud rimane una certa instabilità piogge questa volta vedete interesseranno anche le parti orientali della regione non in modo continuo ma comunque ci saranno delle piogge un po' più significative su queste aree continuerà a piovere ancora una volta sulle parti tirreniche dove sono previste piogge ancora una volta forti quindi sulle zone tirreniche avremo proprio la massima quantità di precipitazioni in questi tre giorni è una situazione che vedrà appunto un miglioramento solo a fine lunedì in questi due giorni soprattutto nella parte iniziale di sabato non sono escluse non l'ho detto prima ma comunque ve lo dico c'è possibilità di qualche nevicata sul Sirino parliamo dei 1800 1900 metri in su e sulle cime più alte del Polino quindi una situazione a causa delle forti piogge previste per sabato con le temperature in quota in diminuzione non sono escluse dicevo nevicate ma solo sul Sirino e sul Polino nelle zone più alte vediamo il grafico degli spaghetti riferito proprio ai prossimi giorni notiamo questo crollo delle temperature vedete tra un primo crollo una prima diminuzione già si è avuta oggi un temporaneo aumento tra oggi e domani poi una diminuzione marcata quindi domenica la giornata in cui vedrà soprattutto in quota un crollo delle temperature domenica e lunedì le temperature si porteranno al di sotto delle medie e poi rimarranno al di sotto per qualche giorno poi lentamente vedete le temperature dovrebbero risalire non è che torna l'estate ma comunque avremo ancora delle belle giornate sicuramente siamo ancora all'inizio dell'autunno non è che siamo in inverno le piogge riferito al grafico nella parte bassa del grafico vedete sono soprattutto concentrate tra domenica e lunedì poi avremo altre piogge nei giorni successivi ma parliamo previsioni a lunghissimo raggio quindi per il momento avremo queste piogge incentrate ancora una volta sulle zone occidentali e poi un miglioramento a partire da martedì con delle belle giornate di sole con temperature che torneranno a aumentare su valori normali non arriveremo sicuramente ai 30 gradi saranno le minime invece a diminuire per via del cielo sereno per oggi è tutto non mi resta che augurarvi un buon weekend e arrivederci sulla nuova tv grazie a tutti